Salve a tutti, ecco qui finalmente completato lo strumento di test degli induttori. Ho assemblato il tutto su una tavoletta di legno, qui possiamo vedere le due schede di cui abbiamo parlato nello scorso video, qui sono andato a collegare un generatore di onda quadra a frequenza variabile e a duty variabile in modo da poter settare con maggior libertà la pvm che poi fa switchare il mosfet e poi troviamo il connettore dell'alimentazione e il connettore dove andiamo a connettere il nostro induttore di prova come ad esempio questo qui. Vi faccio dare uno sguardo più da vicino a come è avvenuta la realizzazione, quindi qua abbiamo lo schedino di rettifica del backboost dove vi è appunto il transistor con i diodi zener che poi vanno a dissipare la la potenza in eccesso. Qui invece abbiamo appunto lo stadio di driver con il mosfet, la resistenza di shunt su cui andremo a effettuare la misura di corrente e questo blocco di capacità con un elettrolitico e due polimeriche in modo da poter reggere i picchi necessari. Inoltre questa resistenza l'ho misurata e ha un valore precisamente di 175 milliohm. Ora quello che ci resta da fare è andare appunto a testare questo strumento andando a effettuare una misura di induttanza. Quindi qui ho già preparato il nostro induttore da andare a testare, adesso misuriamo prima la sua induttanza con lo strumento che ho già a disposizione e poi andiamo a effettuare la misura dell'induttanza con il nostro strumento. Ho connesso l'induttore all'lcmeter e questo misura una induttanza di 1,87. Adesso andiamo a fare la misura con il nostro strumento. Ho connesso l'alimentazione al circuito, lo sto alimentando con una 12 volt, ho connesso anche l'induttore, il circuito sta già funzionando e ho connesso già anche le sonde nel modo che avevamo detto nello scorso video. Quindi adesso andiamo sull'oscilloscopio per vedere qualche forma d'onda. Ecco qui i segnali delle sonde viste all'oscilloscopio. Abbiamo in blu il segnale sullo shunt, quindi sulla resistenza e quindi in pratica è l'andamento della corrente nell'induttore nella fase di carica. Mentre in giallo abbiamo la tensione sul nodo switching. Quindi in pratica fra un capo dell'induttore e il drain del MOSFET. Infatti si vede chiaramente che quando il MOS è acceso, quindi la tensione va a meno 12 volt, perché abbiamo riferito la massa al positivo dell'alimentazione, abbiamo che la corrente aumenta. Mentre quando il MOSFET è chiuso la corrente sulla resistenza va improvvisamente al valore 0 perché non scorre più corrente in quella maglia, mentre la tensione sul nodo va a un valore positivo perché sta spingendo sulla maglia del backboost. Quando il valore di tensione torna uguale al 0 vuol dire che non scorre più corrente nell'induttore. Quindi la fase di carica è questo periodo qui, mentre la fase di scarica dell'induttore è tutto questo periodo qui. Quindi adesso quello che ci serve per effettuare la misurazione dell'induttanza e andare a convertire il picco di questa tensione in ampere attraverso il valore che abbiamo della resistenza che è 175 milliohm e inoltre andare a calcolare quando vale il periodo di scarica dell'induttore, quindi quanto tempo c'è fra questo punto e questo punto. E inoltre, ultimo parametro della formula che abbiamo visto la volta scorsa, ci serve sapere il valore di questa tensione. Molto bene, attivo i cursori, ok, quindi abbiamo che questo valore di corrente è uguale a meno 156 millivolts, mentre il periodo è circa 238 microsecondi. Mentre per quanto riguarda l'altezza di di questa tensione, questa tensione di picco che è quasi costante è di 6,68 volt. Andando a effettuare i calcoli esce fuori che, con quello che abbiamo appena misurato, il valore di induttanza è pari a 1,76 millierri. Ora invece voglio andare a misurare il valore di corrente di saturazione dell'induttore, quindi la massima corrente oltre il quale l'induttore non ha più un comportamento lineare. Quindi tolgo i cursori e vado ad aumentare il duty cycle. Ecco qui, si vede chiaramente che il comportamento non è più lineare. Vedete? Infatti si può chiaramente vedere a schermo come l'induttore abbia un andamento lineare fino a questo punto, dopodiché presenta una forte derivata. Segnale che oltre questo valore di corrente l'induttore è in saturazione. Andiamo a misurare questo valore più o meno qui. Ecco qui. Molto bene. Molto bene. Ecco qui quindi il riepilogo delle misurazioni effettuate. Abbiamo che appunto applicando la formula vista la scorsa volta, otteniamo un valore di induttanza pari a 1,76 millierri. Leggermente inferiore rispetto al valore letto con lo strumento che era pari a 1,87 millierri. Mentre per quanto riguarda il valore di corrente di saturazione di questo induttore, abbiamo che al valore di 1,56 ampere il nucleo inizia a essere saturo e quindi l'induttore non ha più un comportamento lineare. Molto bene. Quindi come abbiamo potuto vedere questo strumento funziona davvero molto bene e ci tornerà davvero molto utile soprattutto nella progettazione di induttori in applicazioni di potenza. Infatti senza questo strumento è difficile prevedere o progettare un induttore perché in pratica non si saprebbe nulla sul suo comportamento una volta inserito nel circuito. Molto bene. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima.